Il 12 maggio, la tua mamma aspetta un bacio. Festa della mamma. Festa di baci. Stiamo organizzando una festa dedicata alla mamma. La festa della mamma che andrà in onda alle 20.40 venerdì sul canale 5. Un sacco di ospiti, un sacco di trovate, un sacco di idee originali e tanti, tanti. Ci sarà pure lui. Oh, oh, oh. Chi è lui? Che fai qua? Oh, oh. E guarda che c'è lì. Ci sarà pure lui, Tyron. Mio fratello. Ciao. Quindi, a venerdì sera alle 20.40 su canale 5. La festa della mamma. Tutti i papai, i nonni, gli zii sono invitati a guardarla. Io non ho una camera mai. C'è la simmental. C'è la simmental. Che buona. C'è la simmental. C'è la simmental. Pentole, brocche, tegami e il servizio da 6 gran spaghettata. Bastano poche prove d'acquisto per avere subito in regalo questi meravigliosi oggetti. E adesso, un buon caffè Suerte, proprio come lo faccio io. Grandi promozioni Suerte. Casella postale 478-10100 Torino. Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Vieni via con me. Ciao, sono Albertino di Radio DJ. Hai visto? È uscita la compilation Hits on 5. Nuova, mixata, irresistibile. Hits on 5. Solo successi in versione originale. Bueno. L'amperoni, amana vita, amana vita. You can't be anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo. Be free, be free. Surrender your ego. Be free, be free to yourself. Non solo moda. Tra poco, su Penale 5.